Salvini non è un problema di decimali ma di serietà, domani sera il nuovo vertice. Via Liberalla, Brexit, Juncker, giorno triste, unico accordo possibile, per me si apre il fronte interno, i laburisti voteranno contro. Disperso l'uomo precipitato con la sua auto nella voragine sulla pontina vicino a Latina, sotto shock l'altro passeggero. Washington chiude la frontiera tra Tijuana e San Diego dopo che centinaia di migranti hanno cercato di forzare l'ingresso negli Stati Uniti. Passo falso del Napoli a San Paolo, pari con il Chievo, la Juve aumenta il suo vantaggio, finisce 1-1 lo spareggio, Champions, Lazio, Milan.